Prima di iniziare il video fai un salto su Fandomia.com e effetto acquisto con il codice contro Jax dal link in descrizione e nei commenti E rieccoci ancora una volta con Spider-Man 4 Questa volta parliamo dello Spider-Man di Tom Holland e di una recente intervista fatta all'attore Gekko Batalon che interpreta Ned all'interno dello Spider-Man di Tom Holland e questa intervista è stata molto particolare perché gli è stato chiesto all'attore cosa ne pensa e quando ci sarà un prossimo film di Spider-Man 4 e lui ha risposto che onestamente vorrebbe non fare proprio nessun film di Spider-Man perché ormai sono tutti impegnati a fare altro tutti si stanno impegnando insomma in altri progetti molto slegati insomma dal mondo dei supereroi e quindi lui preferisce fare così sa che poi tutto può succedere che magari tornerà a fare appunto Spider-Man però preferirebbe non fare nulla ora io non capisco perché lui debba parlare anche a nome degli altri cioè noi chi? è vero che tutti in questo momento stanno facendo qualcos'altro Zendaya è occupata in Dune Tom Holland sta facendo serie TV ma questo non vuol dire che prima o poi non si tornerà a fare Spider-Man cioè Tom Holland soprattutto ha sempre amato il personaggio e sicuramente vorrà tornare nei panni del personaggio questa affermazione da parte di Jacob mi sembra un pochettino così sparata a caso non so se l'abbia detto più che altro per evitare di farsi fare sempre la stessa domanda oppure se non lo so è rimasto un po' infastidito da qualcosa che è successo con la Marvel magari gli hanno agentecipato che non lo chiameranno per il prossimo film strana insomma come risposta perché comunque confermare di non voler fare Spider-Man 4 è molto strano è molto strano poi soprattutto per un attore come lui ragazzi che non è che stiamo parlando di un attorone rifiutare di voler fare Spider-Man che sicuramente gli porterebbe soldi facili non è richiesto una recitazione clamorosa bah veramente strano ma poi se lui veramente è convinto dei suoi prossimi progetti ben venga cioè glielo auguro però boh parlare a nome degli altri sul non voler fare il prossimo film di Spider-Man mi sembra una bella cazzata perché non credo assolutamente soprattutto Tom Honda che non voglia farlo cioè mi sembra contemporaneabile e poi soprattutto cioè l'hanno già confermato la Sony l'ha già detto che lo farà a Spider-Man 4 fu dichiarato in un'intervista o comunque sia basta vedere la scena post-credit di No Home non è che ci sono tanti dubbi quindi un'affermazione molto particolare che ho visto che su internet, su Twitter insomma sta facendo molto discutere e quello che si chiedono tutti è ma questo noi chi è? cioè chi è riferito? perché Jacob può sicuramente parlare per sé ma non per gli altri cioè cosa vuol dire? siamo tutti impegnati in altri progetti speriamo di non fare Spider-Man 4 ma speralo tu scusami se per te è così speralo tu non capisco perché debba parlare anche per i suoi colleghi detto questo da questa intervista possiamo semplicemente intuire che per quanto riguarda Spider-Man 4 di Tom Holland non è un qualcosa che verrà fatto a breve ma questo ve l'ho già detto un sacco di volte ma come sempre attendiamo altre novità su altri film di Spider-Man che potrebbero arrivare nei prossimi anni e chissà magari qualche annuncio già l'anno prossimo detto questo mi raccomando iscrivetevi per essere sempre aggiornati e seguite anche le live su YouTube ragazzi siamo in live alle 15 alle 21 e 30 qui su YouTube e se volete supportare ancora di più il canale vi ricordo che potete abbonarvi a solo 2 euro qui su YouTube per avere alcuni vantaggi detto questo niente ragazzi vi saluto e noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie Grazie.